Centro per l'autismo, un nuovo tavolo in prefettura dove il prefetto Paola Spena ha messo di fronte il sindaco di Avellino e il manager dell'Asla. Ferrante ha dato la disponibilità da parte dell'azienda sanitaria locale alla gestione della struttura di valle. L'Asla, dice Ferrante, è praticamente già pronta. Festa ne ha preso atto ma ha anche confermato la volontà di proseguire su un'altra strada già intrapresa da tempo. Prima di Natale si conoscerà chi gestirà il centro per l'autismo. Finita questa fase si procederà con l'apertura che a questo punto è attesa per inizio del nuovo anno. Chiariti punti importanti così come aveva chiesto il prefetto. L'Asla ha fornito un chiarimento, cioè ha messo a disposizione dell'amministrazione locale, laddove volesse che l'amministrazione può anche scegliere come ha anticipato il sindaco, forse un diverso percorso, l'assoluta disponibilità a farsi carico del centro, a partire con le risorse umane e finanziarie. Dall'altro lato l'amministrazione locale ha preso atto anche con soddisfazione di questa disponibilità dell'Asla, evidenziando però che si sta orientando verso un percorso diverso che dovrebbe concludersi amministrativamente a breve, percorso che ha però una criticità che io ho segnalato e per cui ho auspicato e ho chiesto all'amministrazione locale di riflettere nuovamente, che è quella di una tempistica naturalmente un po' più lunga. Noi abbiamo immaginato una soluzione rispetto alla gestione, dapprima abbiamo dovuto risolvere la questione dei terreni, della struttura, cosa che abbiamo fatto in maniera puntuale, poi abbiamo anche individuato un percorso di affidamento, del quale però vi ho detto vi parlerò nelle prossime settimane, contestualmente l'Asla continua la sua opera, entro dicembre noi provvederemo all'affidamento della struttura, ovviamente abbiamo ricevuto anche una sollecitazione da parte di Socialezza del Prefetto che ringraziamo sempre per il suo impegno rispetto alla valutazione di un'eventuale collaborazione con l'Asla, in qualche modo però insomma vediamo la strada intrapresa se ci porterà come riteniamo a un traguardo vincente. Abbiamo detto che noi siamo disponibili, eventualmente ci viene chiesto di fare attività presso il centro valle, però il Comune nel momento in cui fa scelte alternative, giustamente loro possono scegliere, noi continueremo a dare l'assistenza, amplificando ancora di più e dando assistenza sul territorio per quello che ci compete, a quello che siamo proposti come azienda sanitaria locale. Noi teniamo già appostato 1.500.000 euro per attività anche eventualmente di valle, però noi lo utilizzeremo anche per altre attività se non ci viene chiesto per valle.